Che cosa è successo? Niente, proprio niente. Come niente? Gli hai detto la verità? No, ti ho detto che non glielo dico. Ciao. Ciao. Posso entrare? Volevo sapere come stai. Vieni. Vi lascio soli. Allora come va? Sono qui a sperare che si risolva il problema di Ciro. Sì, anch'io spero lo stesso. Posso? Sì, certo, siediti. Io e te abbiamo una cosa in sospeso. Ti ricordi, no? E quindi non ci muoveremo da qui finché non avremo chiuso l'argomento. Ah, sì? Sì. Sì? Sì. Ah, ok, sì, sì, certo, sì. Quella cosa a cui devo rispondere, questo intendi, sì. Sì. Sì, cosa? Mi piace. Eh? Sì, mi piace, Filippe. Io ti... Ti... Ok, ok, ok. Wow. Non sai quanto speravo che me lo dicessi. Va bene, ma lo sai che non possiamo stare insieme. Ma perché? Lo sai perché? Sì, Divina, ma per favore... Basta, non parliamone più, ti prego. Io che faccio ora che me l'hai detto? Come gestisco quello che provo per te? Dimenticalo, vedrai che sparirà. Per favore, come se fosse facile. Non lo dimenticherò mai più, Divina, ti prego. Basta non rendermi le cose più difficili. Sì, ho già abbastanza problemi per poter pensare anche a questo. Sì, Divina, ma io... Basta, Filippe, per favore. Ok. Ho capito. Comunque, quello che mi hai detto oggi... ...è già un gran passo avanti per me, no? Vuoi che ti accompagni alle prove? No, non so se posso andarci. Beh, se dovessi cambiare idea, avvertimi e andiamo insieme. D'accordo.